Una prova impeccabile ha permesso alla Siera di battere in casa e la Modena di accedere così alla Final Four di Coppa Italia in programma a Casalecchio di Reno al 27 e 28 gennaio prossimi, che era senza storia quella disputata di fronte agli oltre 3.000 spettatori presenti sugli spalti di un Palabarton come al solito caldo e rumoroso, un 3-0 secco frutto di grande sicurezza e massima concentrazione. Dopo l'avvio abbastanza equilibrato, i ragazzi guidati da Angelo Lorenzetti sono cresciuti in maniera progressiva, avvalendosi anche dello strepitoso stato di forma di Kamil Semenyuk, primo parziale terminato 25-22, mentre il secondo e il terzo si sono conclusi rispettivamente 25-16 e 25-18, confermando quindi la capacità dei Block Devils di domare gli avversari. In attesa della partenza della Final Four, Lorenzetti e i suoi si preparano alla prossima match di Superlega, domenica arriva al Monza e la Palabarton servirà un'altra prestazione di livello.